eccoci qua siamo sulla nera issa bella giornata bella salita e adesso facciamo una discesa sul sambuco ciao 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 ahah ahah sì perché mi dà l'impressione di non riuscire che se basta basta una cazzata e non la controllo no no stavo solo facendo attenzione alla ruota perché va giù la ruota questo è veramente l'aspetto più esporto che c'è un po' c'è il comando si ma preferisco non attivarlo perché consuma troppo la batteria già me la consuma così si 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 Grazie. 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 Questa corsa ha due tornanti abbastanza sorrepido. Vedi tu come riesci. E' un po' troppo. Questa corsa. Questa corsa. Questa corsa. Questa corsa. Noch kind. Questa corsa. Questa. Questa- senza faticare troppo guarda tutte le schiette che a forza di girare, gira, gira sai che tante volte ho fatto delle cose poi sono tornato indietro, mi sono sbagliato però ti aiuta secondo me grazie a tutti